Questa nuova trasmissione di Pediastroni A Cianacei e il pubblico da distanza abulmete il privilegio discutere sul campione del mondo e Orgin da Mantec Questa nuova pausa del senzano in stadio è stata la festa per i ghiacci Da sorrente fino a Senzan, il notare franco te fassa per amor de fassa